Cercavo una guida di Amsterdam, una guida coi posti però non mi fa sentire. Come scusi? Non mi fraintendere, ecco io vado in un congresso sui prodotti nanotecnologici per il trattamento e la garniciatura industriale e visto che sono lì insomma... Guardi, sono sicura che in questa guida per Amsterdam ci troverà tutto quello che... che le serve. Sen... Signorina... ti sente male? No! Ok... Sicuro? Signorina... Giulia! No no! Oddio non ci vedo più. Dai calma, calma. Che male mia mamma, la fa feline? No, no, non andati. Aspetta un po' un po' di gioco. Giulia! No, non... No! 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 No!